Signori, benvenuti alla finale di Sanremo 2023. L'Azza è terzo, possiamo farcela, però ora sta anche a voi, anzi sta a tutti noi, perché questa sera dovremo votare col nostro telefono al 475 4751 il codice 09 per far vincere l'Azza e per presentarci all'Eurovision come Italia con un artista fresco, innovativo, forte e che ha tanto da dare al mondo, non solo a noi in Italia. Quindi vediamo di non fare minchiate questa sera, mi raccomando, spendete questi 2,50 euro per una buona causa e facciamo vincere l'Azza a Sanremo. Si può fare, si può fare, è terzo, ci sono due mostri da levare da davanti, uno è ultimo e quello si può fare esi, uno più complicato è quell'altro, è Marco Mengoni, che per carità, forte quanto volete, ma ha rotto le balle e direi di presentarci all'Europa intanto con una proposta nuova, diversa, fresca e che possa attirare un po' tutti, non la solita lagna italiana, quindi non facciamo minchiate ragazzi per favore, codice 09 questa sera per supportare l'Azza, vi prego, ve lo chiedo con l'anima, non facciamo minchiate, codice 09, facciamolo, portiamo l'Azza all'Eurovision ragazzi, tutti insieme, ce la possiamo fare.